Buonasera a tutti e a tutti, sono Bruna Bianco. Con lo pseudonimo di Lilli Doniselli sono una delle autrici di Luna Blu, il corso che, partendo dalla tradizione, la rinnova per mezzo di percorsi specifici per le differenti classi. Infatti, i libri di lettura di prima, seconda e terza hanno strutture completamente diverse tra loro perché diversi sono gli obiettivi da conseguire, ma Luna Blu offre anche una serie di strumenti altamente innovativi. Il primo è il mio primo libro, che è un vero ponte di passaggio tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. Non serve solo per la rilevazione dei prerequisiti, ma consente di far lavorare i bambini utilizzando le loro preconoscenze attraverso attività inerenti alla memorizzazione, l'attenzione visiva ed uditiva, l'orientamento spazio-temporale, il pregrafismo e molte altre. In calce, ad ogni pagina, è indicato l'obiettivo per gli insegnanti, ma avendo noi pensato alla didattica digitale integrata, abbiamo inserito anche suggerimenti e indicazioni di lavoro assolutamente indispensabili per chi deve seguire i bambini a casa, che si ritrova così tracciate tutte le indicazioni che servono per far eseguire in modo corretto i lavori presentati nella pagina. Altra novità è la presentazione delle vocali, che ovviamente vengono riprese nel libro del metodo, ma qui le anticipiamo perché molti bambini già conoscono le vocali, per cui diamo loro la soddisfazione e la gratificazione di leggere le prime semplici parole. Poi il lavoro sulle vocali viene fatto attraverso queste semplici pagine molto ariose e molto disegnate che riprendono la modalità di lavoro della scuola dell'infanzia. Dunque il mio primo libro è il libro per cominciare bene e per mettere le buone basi per poi volare verso l'apprendimento della lettoscrittura, che noi proponiamo, come nostro solito già da fantaparoli e da nuvola, attraverso la narrazione. Ogni vocale e ogni gruppo sillabico è presentato attraverso una storia, che è illustrata nel Flip Poster, il grande libro delle storie, disponibile ovviamente in versione multimediale per permettere ai bambini attraverso il loro computer di vedere la sequenza delle storie e, cosa importantissima soprattutto, di ascoltare le canzoni, perché ogni storia per le vocali e per i gruppi consonantici è accompagnata da una canzone che sottolinea in modo particolare il suono delle sillabe, così che i bambini possano facilmente passare dal suono alla scrittura. Ma vi è qualcosa di più, imparare divertendosi attraverso i cartoni animati. Il Flip Poster è uno strumento molto potente e polifunzionale. Oltre alla rappresentazione delle sequenze delle storie, ha indicazioni per lavori inerenti l'educazione civica, le life skills, la comprensione del testo e soprattutto esercizi utili per la consapevolezza fonologica. Quindi i bambini, una volta che hanno ascoltato la storia, l'hanno vista attraverso le sequenze, hanno cantato la canzone per sottolineare il suono delle sillabe, scoprono le sillabe nel libro del metodo. Perché il metodo sillabico? Perché secondo l'Associazione Italiana dei Logopedisti è il più semplice per chi ha difficoltà e il più rapido per tutti. Quindi i bambini, dopo aver scoperto le sillabe, lavorano con esse attraverso quattro pagine incentrate sulla lettura e sulla scrittura. Quindi molta operatività che continua anche nei quaderni dello stampato e del corsivo che noi abbiamo allegato ai nostri testi già appunto ai tempi di fanta parole e nuvola. Questi quaderni possono essere utilizzati sia separatamente ma anche contemporaneamente per chi volesse presentare i quattro caratteri tutti insieme. Ma ecco la grande novità, i libri di lettura. Il libro di lettura di prima parte con le letture brevi e la trasliterazione, ma ecco la grande svolta. I brani vengono racchiusi diciamo in quattro capitoli che sono strettamente legati alla comprensione del testo, ai pilastri della comprensione del testo. Ecco quindi il capitolo del chi, del dove, del quando e del come. Ciascun capitolo si conclude con grilli in lettura, due pagine dedicate al piacere della lettura senza attività dunque. Molta importanza viene data alla logica. Nel nostro corso vi sono oltre alla logica matematica, vi è la logica linguistica in queste pagine che sono state inserite per abituare i bambini, aiutare i bambini a strutturare il loro pensiero logico. Ma in seconda cambiano gli obiettivi e quindi cambia la struttura del libro. Sono tre sezioni, la prima dedicata al consolidamento della lettura, quindi a leggere bene. La seconda, una sezione molto corposa dedicata al percorso sulla comprensione secondo il quadro di riferimento dell'invalsi. La terza sezione è dedicata al riassunto. Molta operatività sia nell'esercitazione dei testi sia in questi percorsi che sono dedicati al riassunto e all'aiuto che viene dato per la stesura dei primi semplici testi. L'ultimo capitolo del volume è dedicato alle competenze. Vi sono racconti ciascuno dei quali invita il bambino a lavorare sulle abilità acquisite, quindi lettura, comprensione, riassunto e scrittura. In terza cambia l'obiettivo, cambia la struttura del libro. Bisogna presentare le tipologie testuali. Noi lo facciamo in maniera accattivante cercando di far capire ai bambini il perché della tipologia testuale. Vi è un argomento che è riferito ad una competenza di vita. A questo argomento si aggancia la tipologia testuale più adatta a questa competenza di vita. Ecco quindi che le tipologie testuali vengono esplicitate nel loro scopo, lo scopo comunicativo. Molto importante è il libro dedicato alle mappe mentali, mappe mentali che sono inerenti alle tipologie testuali. La prima mappa serve per ricordare la struttura e la particolarità della tipologia testuale. La seconda mappa è una vera e propria scaletta visiva per aiutare i bambini nella stesura di testi inerenti a quella tipologia testuale, ma poi tanta operatività attraverso i quaderni specifici relativi ai testi e relativi ai riassunti. La matematica viene presentata partendo dalle conoscenze già acquisite dai bambini, quindi i numeri nei racconti e il contare sulle dita, ma poi l'intelligenza numerica dei bambini viene sviluppata attraverso il confronto tra i numeri e anche attraverso tanta operatività nel quaderno operativo. In seconda viene data grande importanza alla logica e al problem solving, ovviamente tanta operatività nel quaderno operativo. Stesso percorso in terza, problem solving e operatività, operatività che è presente anche per quanto riguarda le discipline. quindi vedete che i materiali offerti da Luna Blu in prima, in seconda e in terza sono veramente tanti, diversi e innovativi. Vi invitiamo ad andarli a conoscere sul sito di Elila Spiga dove potrete sfogliare i testi, vedere tutti i materiali a disposizione e soprattutto guardare i webinar durante i quali vi sarà esplicato in modo specifico la metodologia didattica del corso e vi saranno dati ulteriori suggerimenti. Grazie per l'attenzione e vi auguro veramente buon lavoro a voi e ai vostri alunni con Luna Blu. Arrivederci, a presto!